Do un saluto a Andreotti, a quello schifoso di Berlusconi. Berlusconi è, lo richiara una volta per tutte, per il 90, OMEA! E noi in questa sede gli richiamo questo hit. Berlusconi! 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 Guarda, io devo andare! Deringa! Una notizia tremenda! Per un solito cauda! Diffio! 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 Io dico, non c'ho da lì la manca! Ha salito i soldi, non può pagare nessuno! ... ... Diffio! ... Provesconi! C'è il volevere, il castellatore interviewed? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti